Salve ragazzi, oggi sono qui in giro per i boschi perché vorrei portarvi la video recensione di un prodotto che ho provato in questi giorni anche in queste zone qui. In particolare mi trovo qui perché sto controllando le fioriture delle orchidee perché più tardi, quando il sole tramonterà qui alle mie spalle, ne approfitterò per fare qualche scatto macro. Ma adesso vorrei portarvi la video recensione di questa piccola action cam e l'avete vista nel mio ultimo video unboxing, si tratta della Wolfang, una action cam di fascia economica molto compatta e con addirittura in questo corpo così piccolo il display frontale per poter vloggare. Quindi se siete curiosi e siete interessati a un action cam di fascia economica come questa, mi raccomando non partetevi questo video. Il video inizierà ovviamente con l'unboxing che ho registrato qualche giorno fa, alcuni test che ho fatto sempre qualche giorno fa qui in natura e poi li commenteremo insieme e vi farò sapere la mia su questa piccoletta e se vale la pena effettivamente acquistarlo oppure no. Quindi se siete curiosi ci vediamo ovviamente dopo la sigla. Confezione molto minimal, come vedete c'è poca roba se non qui scritto le caratteristiche principali. 4k 60fps, 40 metri di profondità massima con il case, dual display screen e controllo ovviamente in wifi. Andiamola a scoprire insieme qui cosa c'è dentro la confezione. Allora qui vedo un manoletto veloce di istruzioni dove vediamo praticamente elencati tutti gli accessori che troverete dentro la confezione. Qui ce ne sono segnati altri in modo da capire un po' anche il loro funzionamento e qui manoletto di istruzioni in diverse lingue tra cui c'è anche l'italiano. Quindi cosa ottima per chi non ha dimestichezza con le action cam. Action cam che viene fornito ovviamente di un case subacqueo. Chiesi subacqueo che potete vedere abbastanza semplice, un po' come tutte le action cam di fascia economica. E qui dentro ovviamente c'è l'action cam che è fatta piuttosto bene. Mi sembra addirittura tutto in metallo. La vedo bella rinforzata, bella pesantuccia. Come vedete è anche molto compatta. Andiamo a togliere le pellicoline dal display anche. Qua dietro ce n'è un altro, lo andiamo a togliere anche. E andiamo a scoprire insieme come funziona. Qui dentro troviamo una porta micro HDMI e una micro USB-C. suppongo una serva per la ricarica e ovviamente quella per trasmettere i video. Questo dovrebbe essere il piccolo microfono. Penso che ce ne siano altre sparse in giro, almeno spero. Penso che questo sia un altro microfonino. Qui abbiamo due tasti funzione, tasto d'accensione e qui abbiamo la filettatura per poterla attaccare direttamente al treppiedi, cosa ottima che ormai tolgono in tutte le action cam e a me sta cosa dispiace. Nella confezione ho trovato due batterie, una è qui, una l'ho inserita quando ho fatto il video unboxing. Adesso vado a mettere poi una memory card per andarla a provare. Ma andiamo a vedere che accessori troviamo in confezione. Quindi spostiamo un po' tutto, facciamo un po' di pulizia e vediamo cosa c'è qui dentro. So già che tutto quello che vedrete qui dentro non rientrerà più dentro la confezione come prima. Allora, qui vedo un microfono esterno che funziona con cavetto micro USB da vedere poi se effettivamente vale la pena utilizzarlo oppure no e se c'è un effettivo guadagno di qualità. Vedo qui un attacco standard GoPro, qui vedo un attacco a slitta standard, anche questo simile GoPro con adesivo, qui vedo una fascetta, suppongo sia una fascetta da polso poi qui abbiamo un classico telecomandino, penso abbastanza cheap sembrerebbe addirittura carico, vedo che qui le lucini si accendono quindi dovrebbe già essere funzionante. Lo andremo a provare anche questo cavetto di ricarica micro USB, USB A ovviamente qui abbiamo un altro tipo di attacco di questi ne troveremo sicuramente varie questo è l'attacco per il manubrio della bici mi sembra fatto addirittura meglio di tanti altri che ho visto in action cam sempre di fascia economica qui abbiamo degli adesivini delle fascette, un cavettino d'acciaio per fissare la nostra action cam qui vedo altre fascettine con velcro nemmeno da aprirle, possono essere utili per agganciarle in sicurezza da qualche parte qui vedo un piedino sempre per GoPro che va ad attaccarsi in un altro zoccolino come questo quindi ne troverete due mi sembrano identici no, questo è piatto, questo è leggermente curvo poi abbiamo altri attacchi attacchi, attacchi e qui vedo un coperchietto in silicone nero per poter proteggere la lente frontale della nostra action cam e questo non è affatto male perché è facilissimo andare a graffiare un action cam di questo continuo a dire che la costruzione mi sembra grandiosa perché la vedo veramente pesante e massiccia essendo costruita in metallo pesa un bel po' e nonostante tutto è molto molto compatta anche rispetto a tutte le altre che ho provato finora direi di mettere una batteria e andarla a provare subito per vedere un po' come si comporta installiamo la micro usd rimettiamo la batteria e vediamo un po' come è fatto il menu che posizioni ci sono qui dentro e come va togliamo il tappetto ok, ci siamo allora vedo già che qui c'è un pulsante delle impostazioni dimensione video vedo che c'è 4k a 60 e 4k a 30 qui vedo la stabilizzazione che vorrei attivare poi vediamo registrazione vocale on riduce il rumore del vento non mi interessa misurazione filigrana temporale date ora andiamo a settare off perché non mi interessa poi vediamo altre impostazioni impostazioni audio sono otturatore volume 2 angolo di campo largo medio e stretto vediamo angolo vediamo subacqua effetti microfono cavo a volto salva schermo frequenza ottica bilanciamento del bianco date ora oggi è il 22 di febbraio ok qui vedo già un po' a display come si comporta direi di fare un primo test a 4k a 30 fps vediamo un po' cosa riesce a combinare questa piccoletta la prima cosa da fare è ovviamente vedere un po' come si comporta questa action cam facciamo una cosa mettiamo col display frontale così mi posso guardare non male perché davanti riesco a vedere perfettamente tutto quindi riesco a vedere la grafica quanti minuti mi restano di registrazione le modalità la batteria e praticamente ho tutta la visione completa non ritagliata come è capitata con l'Acaso quindi a questo punto direi di switchare il video con questa e vediamo la differenza di qualità rispetto anche alla GoPro beh ragazzi sto registrando con questa Wolfgang vista così mi sembra abbastanza carina anche da tenere in mano la costruzione mi sembra piuttosto buona come vi dicevo il display frontale è comodo non è molto luminoso ma comunque si riesce a vedere abbastanza bene anche al sole ho attivato la stabilizzazione quindi dovreste vedermi abbastanza bene e niente spero che anche l'audio sia sufficiente adesso passo dall'ombra alla luce vediamo un po' come si comporta anche l'adattamento alla luminosità e potrei anche fare un test in controluce per vedere che effetti dà magari con un pieno controluce del sole noto che dopo qualche minuto il display frontale si spegne penso che cliccando il pulsante si cliccando il pulsante di sopra si riaccende quindi riesco a rivederlo e a rivedermi nella composizione adesso mi giro vado in pieno controluce quindi ho il mio sole perfettamente alle spalle e a questo punto direi di fare anche una piccola corsetta per vedere in 4k a 30 fps come funziona la stabilizzazione ovviamente la corsetta è stata fatta in un terreno accidentato quindi scossoni sobalzi io che corro e quindi avete anche visto un po' come si comporta questo stabilizzatore e niente a questo punto direi di fare anche un altro test in cui potrei confrontare un po' nella stessa situazione di luce la gopro e quindi farvi sentire e vedere le differenze sia di audio che di video con la mia gopro 8 che ormai utilizzo da tantissimo tempo e che uso proprio come sistema di comparazione standard per vedere la qualità di un action cam quindi andiamo a montare il tutto e poi andiamo a vedere le differenze bene ragazzi ho montato qui la mia gopro 8 che in questo caso è dentro il media mod per poter attaccare sopra il display frontale e quindi potermi vedere per fare i vlog quindi non ho altra alternativa se mi voglio vedere ovviamente mentre questa in uno spazio così piccolo ha il suo piccolo display le fotocamere sono state impostate tutte e due in 4k a 30fps passiamo cliccando qui il pulsante sopra il display frontale della Wolfgang allora in questo momento ho tarato in modo più simile possibile le due action cam in questo caso ho messo al massimo grandangolo la Wolfgang con stabilizzazione attiva mentre sulla GoPro per avere un angolo di campo molto simile alla Wolfgang ho dovuto mettere un angolo di campo lineare quindi molto ritagliato sempre con lo stabilizzatore attivo se mettessi in ultra grandangolare la GoPro l'angolo di campo sarebbe molto più ampio magari ve lo faccio vedere dopo intanto andiamo a fare un paragone per avere la stessa dimensione di immagine più o meno nelle due fotocamere in modo da avere un paragone più semplice quindi iniziamo a registrare e vediamo un po' cosa combinano sto registrando sia con la GoPro che con la Wolfgang ho cercato come vi dicevo di mantenere un angolo di campo molto similare e potete vedere la differenza tra le due di colori adesso sono in ombra passerò subito a una situazione di luce diretta quindi capirete un po' come si comportano le due action cam e come si adattano a questa luce molto molto forte quindi potete vedere bene la differenza altro test che potete notare è come si comporta la stabilizzazione in questo caso la stabilizzazione sulla GoPro è impostata su bassa perché potrei aumentarla ancora e metterla in boost mentre sulla Wolfgang non c'è questa possibilità c'è solo un tipo di stabilizzazione quindi questa è quella massima che si può pretendere da questa action cam adesso direi di girare tutto e andare in controsole vedere come si comportano anche in questo caso le due action cam con un controsole pieno e adesso facciamo il test della corsetta per vedere un po' come stabilizzano ok proviamo adesso invece ad entrare qui nel sottobosco quindi condizione di luce di nuovo più scarsa vediamo come si adattano ok ci siamo potete anche apprezzare le differenze di audio delle due action cam che io durante il montaggio ovviamente switcherò avete visto bene sotto quale audio state ascoltando delle due a questo punto direi di farvi vedere invece quanto la gopro riesca a mantenere un angolo di campo ampio nonostante la stabilizzazione quindi adesso riattivo sulla gopro una modalità diciamo ultra grandangolare che corrisponderebbe a quella della wolfhang ma che grazie alla sua stabilizzazione molto particolare riesce a mantenere quest'angolo di campo e non ritaglia tantissimo quindi facciamo questa piccola modifica ecco qui la gopro 8 in super grandangolo con la stabilizzazione attiva mentre questo è il massimo di grandangolo che si può ottenere con la stabilizzazione attiva della wolfhang capite bene che lo spazio inquadrato è molto diverso ovviamente tutto quello che sta agli angoli della gopro tende ad essere deformato in questa modalità mentre sulla wolfhang ovviamente questa cosa si nota di meno e niente adesso vi faccio vedere magari un paio di clip con la stabilizzazione staccata e quindi il massimo grandangolo che potete ottenere con la wolfhang però con lo stabilizzatore disattivato e potremmo così verificare un po' come si comporta questa action cam su tre piedi e soprattutto un po' capire se in effetti potrebbe essere una buona sostituta per chi non cerca un action cam con un angolo di campo troppo esagerato e stabilizzato cosa che purtroppo su tutte le action cam diciamo economiche non va è proprio questo che se cerchiamo un action cam molto grandangolare con la stabilizzazione praticamente non la troviamo abbiamo solo come scelta le gopro o comunque altre marche più blasonate passiamo al test su tre piedi adesso così vi faccio vedere le varie modalità di grandangolo medio e stretto della wolfhang ok questo è video con la wolfhang l'audio proviene da dietro perché sto registrando ovviamente vedendo il display da dietro e questo è l'angolo di campo con il massimo diciamo che può offrire questa wolfhang con lo stabilizzatore disattivato ora vi faccio vedere con lo stabilizzatore attivato che cosa succede questo è lo stesso video qui ho attivato lo stabilizzatore e come vedete l'angolo di campo si è ridotto anche se sono su tre piedi quindi in questo caso non ci sarebbe questa necessità però in questo modo potete rendere conto quanto croppa la stabilizzazione rispetto all'angolo di campo più ampio che ha questa piccola action cam adesso ridisattivo lo stabilizzatore e andiamo a provare gli altri angoli di campo che offre l'action cam ovviamente in questo caso li farò tutti e due senza stabilizzatore attivato quindi questo è un video con la stabilizzazione disattivata e l'angolo di campo medio potete vedere quindi la qualità sempre in 4k a 30 fps e vediamo un po' come vi sembra ditemi voi magari sotto nei commenti che cosa ne pensate questo è il video praticamente sempre in 4k a 30 fps con stabilizzazione disattivata e angolo di campo stretto quindi potete vedere bene la differenza di angolo di campo vi faccio notare anche un'altra cosa vado a stoppare il video qui a display c'è un ulteriore modo per poter zoomare ovviamente questi zoom che andiamo a utilizzare sono dei crop digitali quindi in questo campo vedete quanto potete andare a stringere però non so quanto perderete di qualità e mentre in questo modo torniamo indietro penso che funzioni anche con altri angoli di campo vediamo se con l'angolo di campo ampio largo funziona anche se c'è anche qui lo zoom digitale ovviamente perderete qualità perché si tratta di uno zoom digitale sempre su treppiedi vorrei utilizzare la loro applicazione quindi vedere anche come funziona l'ho installata l'applicazione si chiama eSmart dv2 ok ci siamo qui potete vedere l'anteprima della Wolfgang che mi sta registrando in questo momento ed è messa qui su treppiedi e vi faccio vedere in live un po' quello che riprende ecco qua quindi io da qui posso gestire la registrazione posso gestire penso un po' tutto vediamo qui se posso cambiare le impostazioni si dimensioni del video quindi posso scegliere le varie dimensioni bilanciamento del bianco frequenza tempo data funziona rallentatore scala da schermo stabilizzazione di immagine on off quindi posso attivarla e disattivarla lunghezza del file diciamo che ci sono un po' di funzioni ma non tutte da qui ovviamente posso far partire la registrazione oppure cliccando qui posso andare in altre modalità quindi posso fare modalità foto in questo caso vediamo un po' che qualità fotograficamente parlando voi ovviamente la state vedendo a video io la andrò a vedere a casa e poi c'è anche la modalità timelapse che permette ovviamente di fare più scatti poi da unire in timelapse volevo provare qui dall'applicazione a settare le varie modalità quindi l'ampiezza dell'angolo di campo e disattivare la stabilizzazione da qui praticamente si può staccare soltanto la stabilizzazione ma non si può interagire sull'angolo di campo quindi se vogliamo cambiare l'angolo di campo lo dobbiamo andare a fare da lì mentre ci sono e abbiamo controllato che l'applicazione funzioni correttamente potrei anche tentare di vedere se funziona il telecomandino vi lascio qui l'immagine per farvi vedere che tutto funziona correttamente quindi andiamo a cliccare su video ok è partita la registrazione si vede qui perfettamente e andiamo a stoppare il video perfetto funziona clicchiamo scatto scatta direttamente immagine da 24 megapixel come vedete anche il formato qui al display è diventato più largo perché ovviamente lo scatto del sensore è in 4 terzi e non in 16 noni come la modalità video infatti se clicco qua su video lui parte e vedete che l'angolo di campo è stretto in 16 noni per quanto riguarda i menu vorrei darvi qualche informazione in più sulle varie modalità esistenti su questa action cam che non andrò a provare tutte c'è quella normale quindi video classico abbiamo loop che sarebbe ripetizione continua quindi sicuramente quando andremo a registrare farà tipo da dashcam o fotocamera diciamo di controllo andrà a registrare a sovrascrivere i file più vecchi per registrare quelli più nuovi poi abbiamo la modalità timelapse quindi in video teoricamente dovrebbe fare quindi un video direttamente modalità rallentatore quindi penso che a fps più ampi dovrebbe dare un rallentatore approssimativo veloce e poi leggiamo wifi mentre andiamo nel menu quello degli scatti abbiamo come modalità scatto singolo poi abbiamo scoppio che sarebbe più scatti in successione che possiamo andare a impostare quanti scatti vogliamo fare modalità timelapse quindi possiamo fare un timelapse soltanto con gli scatti quindi non avremo un video finale ma avremo degli scatti soltanto poi li andremo a montare noi poi abbiamo tempo questo sinceramente non vi saprei dire penso che sia il ritardo quindi tipo per fare gli autoscatti sì e poi abbiamo anche la modalità lunga esposizione quindi potremmo utilizzarla per fare lunghe esposizioni scatti notturni qui abbiamo addirittura 8, 30 e 60 secondi di esposizione ovviamente tutto questo lo farà su scatti in jpeg purtroppo non vedo nessuna impostazione per fare scatti in raw questa è una piccola pecca che secondo me potrebbe essere corretta facilmente facendo un aggiornamento software per quanto riguarda i menu non ci sia nient'altro da aggiungere che una classica action cam poi sarà da studiare meglio se vi interessa comunque trovate il link in descrizione potete andare a vedere tutte le altre varie caratteristiche che trovate sul sito ufficiale prima delle conclusioni e andare a vedere altre piccole clip fatte manca un piccolo test molto importante quello dell'audio percepito quindi catturato dalla action cam direttamente e quello tramite il suo piccolo microfonino a cavo micro usb quindi andiamo a fare questo test ricordate che in questa action cam quando andate a collegare il microfono esterno dovete andare anche ad attivare la funzionalità dal menu perché sennò il microfono non funzionerà quindi molto importante se acquistate questa action cam quindi iniziamo subito col test audio del microfono integrato della wolfhang 1 2 3 prova 1 2 3 prova test audio microfono esterno 1 2 3 prova 1 2 3 prova bene ragazzi avete visto diversi test avete visto video foto ma prima vorrei passare al pc e farvene vedere qualcun altro giusto per fare un altro po' di considerazioni su questa action cam prima di darvi il mio risponso finale sulla piccola wolfhang parto con delle clip fatte a bassa luminosità qui sotto bosco fitto senza stabilizzatore come vedete inutilizzabile questo file anche con lo stabilizzatore attivato tutto diventa inutilizzabile qui la situazione è peggiore ulteriormente c'è anche l'effetto gello quindi anche qui assolutamente bocciata mentre se lo andiamo a poggiare a terra la situazione migliore come vedete il file è comunque accettabile c'è un certo rumore una certa compressione dovuta al file non proprio eccezionale però diciamo che è utilizzabile a livello materiale se passiamo invece alla fantomatica risoluzione 4k a 60fps notate che praticamente non esiste avevo già sentito dire di questa cosa come vedete c'è un file ultra pixelato sembra quasi un 720p ridimensionato praticamente in 4k ma il dettaglio non c'è si vedono questi pixel enormi è un file assolutamente inutilizzabile anche le altre risoluzioni 2,7k 1080p sono dei file che non mi sono piaciuti forte compressione poco dettaglio secondo me l'unica risoluzione utilizzabile diciamo per scopa materiale resta il 4k a 30fps vedete qui la differenza tra il 60 e il 30 qui nel 30 il dettaglio si vede si nota ovviamente sempre la solita compressione però la qualità è sufficiente per fare video amatoriali e diciamo video familiari secondo me è sufficiente per il prezzo che ha passiamo alle foto foto che ho fatto in condizioni di luce un po' particolari per vedere sia la gamma dinamica che la gestione di luci e ombre e compressione dovuta a un file jpeg che comunque ha dei suoi limiti file abbastanza compressi discretamente grandi come dimensioni ma con poco dettaglio nonostante i 24 megapixel di questo diciamo sensore i file che tira fuori non sono un granché se li andiamo a zoomare e andiamo a vedere il dettaglio fino praticamente questo si va a perdere sia per colpa della compressione sia per la qualità intrinseca del sensore infatti ho voluto fare anche un test a confronto con la gopro che uso io che ha solo i 12 megapixel quindi la metà sfruttando diciamo il massimo grandangolo e la risoluzione massima del sensore vedete che comunque la gopro ha un grandangolo più ampio quindi prende molta più roba ha più gamma dinamica nonostante tutto anche diciamo in jpeg e se andiamo a zoomare il file che è praticamente la metà come risoluzione vedrete che la gopro hero 8 nonostante abbia la metà dei megapixel riesce a tirare fuori comunque più dettaglio e stiamo parlando di un semplice jpeg quindi se dovessimo paragonare il raw la situazione cambia ulteriormente sempre a vantaggio ovviamente della gopro hero che vi ricordo ha 12 megapixel in meno bene è arrivato il momento delle conclusioni so che il video è durato tantissimo cercherò di essere il più breve possibile avete visto varie risoluzioni avete visto vari test varie prove immagini diciamo sufficienti come avete visto il paragone con la gopro è assolutamente infimo i dettagli che tira fuori la gopro sono assolutamente superiori non parliamo poi dei video che come avete visto in 4k risultano buoni a 30 fps ma a 60 fps non so cosa succede diventa tutto un disastro e anche le risoluzioni più basse quindi il 2,7k il 1080p che ho provato hanno qualità abbastanza scadenti quindi secondo me è un action cam che dà il suo meglio soltanto a 4k a 30 fps che comunque diciamo è piuttosto sufficiente anche se devo dire che rispetto all'altra action cam ha una compressione molto molto forte quindi i file saranno piuttosto piccoli quelli che troverete in memoria sprecherete quindi poca memoria ma comunque avrete dei file compressi e quindi una leggera perdita di qualità se dovessi confrontarla con l'acaso ad esempio l'acaso rispetto a questa aveva una qualità superiore in tutte le risoluzioni che ha a disposizione detto questo ovviamente questa è un action cam di fascia economica molto meno costosa di tutte le altre che ho provato finora e quindi potrei anche consigliarvela se fate video statici o comunque avete bisogno di vloggare semplicemente appoggiandola su tre piedi può fare al caso vostro perché ha una discreta qualità su tre piedi senza stabilizzazione come avete visto la stabilizzazione è abbastanza scarsa l'unica che ha una stabilizzazione decente è stata l'acaso brave 7 ma poi se volete ovviamente action cam che siano stabilizzate non potrete permettervi di acquistare roba cinese o cheap ma dovete buttarvi esclusivamente su gopro o magari in insta o dji quindi le tre marche ovviamente più costose l'angolo di campo come avete visto è un angolo di campo abbastanza stretto nonostante abbia disattivato la stabilizzazione quindi se cercate qualcosa di molto grandangolare anche qui dovete affidarvi a roba più costosa e cos'altro aggiungere il display mi è piaciuto tanto perché si vede piuttosto bene nonostante non sia luminosissimo ma ti permette di vedere tutte le impostazioni che avete attivato riuscite a capire benissimo se state registrando un video o se state facendo una foto l'adattamento dell'immagine è perfetta quindi riuscirete a vedere in 16 noni l'anteprima perfetta di quello che state registrando se si tratta di video e in 4 terzi se state per scattare una foto in più vedrete le impostazioni sopra e sotto e quindi vi farete un'idea chiara di quello che state per registrare o fotografare ottima cosa secondo me cosa che in altre action cam non c'è quindi riuscite a vedere qua magari una piccola parte come succede nell'acaso ma non riuscite a leggere tutte le impostazioni o comunque non vedete il frame completo che sta realizzando e registrando la piccola action cam piccola pecca che non mi è piaciuta di questa action cam è anche il fatto che nonostante ci siano tantissimi accessori la casa madre non abbia inserito in confezione un caricabatteria esterno questo cosa comporta che ogni volta che andrete a scaricare la batteria dovrete inserirla qui dentro e attaccare direttamente l'action cam a un caricabatteria o un powerbank questo potrebbe essere un problema per chi si sposta molto e fa video in natura ad esempio io solitamente cosa faccio la batteria che scarico della gopro la metto sotto carica con un powerbank con il suo caricabatterie e qui inserisco quella carica e continuo a registrare e qui ovviamente non potrete farlo visto che non avete un caricabatterie e questo secondo me è una cosa piuttosto limitante perché potrete registrare veramente con le due batterie ma oltre a quello non potrete fare nulla perché non avrete il modo per caricare la seconda batteria mentre utilizzate la prima bene ragazzi credo di avervi detto tutto se mi sono dimenticato qualcosa o avete domande a riguardo mi raccomando scrivetele sotto nei commenti cercherò di rispondervi il più presto possibile io la darò ancora per un po' giusto per rispondere alle vostre domande e fare altri test se sarà necessario per rispondere e comunque andrò alla ricerca di altro anche di economico e vediamo se in futuro ci sarà possibilità di provare altre action cam di questa fascia di prezzo e magari trovare qualcosa di più interessante detto questo io vi saluto mi raccomando sostenete il canale con un like e con un commento noi come al solito ci ribeggiamo qui con altri video in natura e ovviamente su Instagram e Facebook con le mie foto naturalistiche ci vediamo alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti